Vorresti la maglietta del tuo giocatore preferito? Oppure ne vorresti una con nome e numero a tua scelta? Passa dal link in descrizione, prezzi convenienti, personalizzazione completa e consegna veloce e inoltre col codice GG94 hai il 10% di sconto. Venite in tanti! Eccoci qui ragazzi, allora volevo fare questo nuovo video di calciomercato per parlare ancora una volta di un possibile acquisto in casa giallorossa. Sappiamo tutti quanti che Allison è considerato un possibile partente, visto il gran interessamento del Real che arriverebbe addirittura a spendere 65 milioni per portarsi alla casa, cifra che io non accetterei perché ne voglio 80 cash, però se la Roma dovesse accettare il giocatore partirebbe con la volontà di se stesso e di tutte e due le squadre. Ma comunque, la Roma ovviamente si sta già guardando intorno alla ricerca di un buon primo portiere, addirittura qualcuno pensava che Mirante potesse essere il primo portiere ma come fate a pensare a una cosa del genere? Oltretutto se è partito Scorupski al suo posto, Mirante sarà venuto a fare secondo o no? Ecco, giusto perché è un po' questo discorso. Allison potrebbe partire e come è ovvio che sia la Roma si sta guardando intorno per un portiere di livello attuale, cioè di livello di un portiere forte attualmente, che possa sostituirlo degnamente. Si sono fatti vari nomi, Sill, Sen, si era fatto quello di Meret, ma anche Meret mi sembra una scelta abbastanza assurda, soprattutto visto che adesso la Spal o l'Udinese, l'Udinese vuole 35 milioni per cederlo, quindi ovviamente lasciamo perdere. Ma uno di questi nomi che è stato fatto in questi ultimi giorni e di cui non avevo praticamente mai parlato, anche se questa voce è di qualche giorno fa, è Gigio Donnarumma. È Gigio Donnarumma. Sembra infatti che il giocatore si sia offerto, anzi diciamo che Mino Raiola lo abbia offerto alla Roma, per fargli fare il titolare e per giocare la Champions League, visto che col Milan non ci è riuscito in questi ultimi anni e sicuramente non ci riuscirebbe neanche la prossima stagione. Secondo me Donnarumma partirà sicuramente. Però, sinceramente parlando, non lo vedrei benissimo a Roma. Più che altro perché è un giocatore che ha dimostrato, almeno in questi ultimi mesi, di soffrire molto, almeno attualmente, le pressioni di una piazza esigente. Quindi pensate se dovesse venire a sostituire Alisson, che ha fatto una delle stagioni migliori di tutta la sua carriera e che lo porterebbe appunto a diventare il titolare del Real Madrid. Ogni suo piccolo errore con la maia giallorossa verrebbe sottolineato per 20 volte in questo momento. Quindi già solo per questo motivo io lo considererei un affare complicato, perché il giocatore, almeno dal punto di vista mentale, deve ancora crescere per poter prendere l'eredità di un giocatore così importante come Alisson. Io, personalmente, reputo Donnarumma un buon portiere. Molte hanno esagerato dopo le papere contro la Juve in finale. È una pippa, un sopravvalutato, scarso, un sopravvalutato? Magari sì, perché Marco mi ricordo le voci dell'anno scorso, 60 milioni, 70 milioni, 80 milioni. Quello assolutamente no. Qua bisogna cercare di capire un po' il limite dell'assurdo. Cioè, non bisogna né sopravvalutarlo né sottovalutarlo. È un buon portiere che a 18 anni ha dimostrato ottime qualità, ottimi riflessi, un fisico che comunque gli permette di essere abile e di coprire bene la porta in tutto e per tutto. Non è un fenomeno, è meno forte di Alisson, e qua ci siamo tutti quanti arrivati, ma non è scarso. Quindi mettiamo prima di tutto questo in chiaro, perché se no la gente dice Alisson, Donnarumma è scarso, da pipa... No, non è scarso Donnarumma. Diciamoci la verità. Quest'anno ha sì fatto qualche papera, ma ha fatto anche delle parate decisive come contro il Napoli che hanno salvato il Milan da sconfitte sicure. Quindi io, di principio, non considererei Donnarumma la peggiore scelta per il dopo Alisson. Ecco, ho trovato le parole giuste, stavo cercando a poco questo discorso, per dire che non è il giocatore che vorrei, ma non è neanche il giocatore più scarso che ci hanno proposto. O quello meno pronto, o altro. Potrebbe arrivare la Roma? Può darsi, può darsi. I rapporti tra Roma e Milan sono sempre rimasti molto positivi, ci siamo scambiati i vari attaccanti, Borriello, Destro, se erano presi in excess, comunque i rapporti tra Roma e Milan, tra le dirigenze, perlomeno sono abbastanza positivi, o perlomeno lo erano qualche anno fa quando c'era Rossella Sensi e la dirigenza di Berlusconi e tutto quanto. Adesso magari è un po' diminuita questa cosa, visto che la Roma con pallotta ha litigato un po' comunque ha messo in dubbio le risorse monetarie della proprietà cinese, che poi in realtà erano frasi giuste e tutti l'avevano criticato, ma lasciamo perdere, e quindi adesso sicuramente il rapporto sarebbe un po' più freddo, però l'affare non sarebbe impossibile, secondo me. Io, nell'evenienza che la Roma voglia andare solo su di lui per il dopo-Alisson, non ci spenderei più di 30... 35... ma proprio tanto, ma proprio tanto milioni, proprio tanto 35 milioni, ma da trentina, diciamo una trentina massima, trenta, 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 perché vale meno di Alisson, come ho appena detto sarebbe un po' a rischio perché sarebbe meno pronto del portiere brasiliano, e quindi io più di trenta milioni non ce li spenderei. Se dovesse arrivare alla Roma, però, la prima cosa che voglio è il massimo supporto per lui. È una frase trita e ritrita che mi avrete sentito dire diverse volte, ma la voglio ripetere anche in questo video. Qualora Donna Roma dovesse, metti caso, diventare il portiere titolare della Roma per la prossima stagione, bisognerà lasciarlo giocare in pace. Senza pensare ai discorsi, eh, aveva ricattato il Milan e ha fatto bene il fratello Scarzo, eccetera, eccetera. Sto parlando comunque di opzioni difficili, cioè non è che sto dicendo che Donna Roma è vicino, però ho letto alcuni articoli che parlavano di un suo avvicinamento, comunque di una sua proposta alla dirigenza giallorosso. Stavo dicendo, bisognerà lasciarlo tranquillo e non ucciderlo ogni volta che potrà fare un errore, perché i portieri sbagliano, gli attaccanti sbagliano, i difensori sbagliano, Alisson in questa stagione non ha sbagliato niente, ma è stato un miracolo, perché comunque è difficile non sbagliare niente in una stagione, e lui ci è riuscito. Però non tutti sono Alisson, quindi se Donna Roma dovesse venire alla Roma, mi aspetto quantomeno maggiore pazienza da parte dei tifosi, e non un attacco e non delle critiche ancora prima che vengano a vestire la maglia rossa, un po' come è successo per Sant'Onne. A proposito di Sant'Onne, e con questo concludo il video, io volevo chiarire il discorso per quelli che mi hanno considerato incoerente, perché nel video sfogo di Nengolan ho detto che era scarso, però poi ho fatto un video il giorno dopo criticando quelli che lo hanno offeso. Allora, prima di tutto, lo metto in chiaro fin da subito, quando io ho fatto il video su Nengolan ero arrabbiato per l'affare in sé, e non ho fatto un video intitolato Sant'Onne sei una pippa non ti vogliamo, è molto diversa la questione. Ero arrabbiato e ho detto che per me prendere Sant'Onne e Zagnolo più una ventina di milioni per Nengolan era un'assurdità, perché Sant'Onne non mi piace come giocatore. Ho detto è una pippa, è una pippa, lo so, non è che nego quello che ho detto anche perché ve l'ho messo online, però molto era dovuto dalla rabbia che provavo in quel momento, ma non era un video incentrato a criticare Sant'Onne, ma in generale l'affare in sé, perché come è ovvio che sia Sant'Onne non ha una cazzo di colpa a riguardo. Io, se dico che Sant'Onne per me è una pippa, non è che incito, secondo me, perché molti mi hanno detto queste cose, che incito il mio pubblico ad andare ad offenderlo in privato dicendogli che è una pippa e che non ce lo vogliamo, non è assolutamente questo il discorso. Io ho detto semplicemente con giocatori che per me, alla Roma, non serviva tanto. Ormai l'abbiamo acquistato e ho detto anche nel video successivo che bisogna dargli supporto, ma il mio obiettivo nel primo video non era di criticarlo e dire che è uno stronzo o cose di questo genere, ma che fondamentalmente non mi piace come giocatore. Io ho criticato il suo aspetto tecnico e non il suo aspetto umano, cosa che invece le persone che sono andate in privato ad offenderlo hanno fatto. Quindi chiariamo un pochino questo discorso. Io non ho nulla contro il Sant'Antonio Uomo, non ho criticato il suo aspetto umano, ho criticato le sue caratteristiche, ma visto che diventerà ufficialmente il giocatore della Roma, voglio dargli il mio supporto. Mi farà incazzare come a me hanno fatto incazzare De Frello, Gonalon e questo qua? Non importa. Comunque merita di essere supportato. E poi, se partirà subito, se avrà fatto casino su casino, potremmo dire ha fatto i disastri, è una pippa, eccetera, eccetera. Ma adesso bisogna tenerlo calmo e dargli il supporto. Così come bisognerà tenere calmo Donnarumma qualora ci sia la minima possibilità che diventi il titolare della nostra porta. Ho fatto un discorso un pochino intricato, dico la verità, però spero che abbiate capito tutti quanti qual è il mio pensiero. Fatemi sapere nei commenti invece voi cosa ne pensate. Ci vediamo presto per un altro video. Un saluto e sempre comunque Forza Roma! Ciao ragazzi! Ciao!